Il vincitore 0 5 1 4 la tessera 514. Presidente uomo o donna? Ride lo conosce. È un uomo. Lo conoscono tutti penso. Penso che abbia fotografato tutta Fano. È l'amico Gaggi Ilario. Allora Ilario Gaggi, tessera numero? 514. Facciamola vedere. Pronti? Con questa tessera ti sei giudicato il getto. Una botta. Una botta di... Fortuna. Ecco, che è una fortuna. Va bene, insomma il Carnevale di Fano visto attraverso l'obiettivo ma adesso sarà visto attraverso il getto. Ecco, io siccome sono un patito del Carnevale, come tutti sanno, quindi per me è il massimo arrivare a fare il getto. Dopo 4-5 anni che sono 5 anni finalmente faccio il getto. Che cos'è per un fanese il Carnevale? Beh, per un fanese non lo so. Per me il Carnevale è Fano, il Carnevale è divertimento. Il getto è il Carnevale, bisogna coltivarlo e portarlo fino in fondo. Porta turismo, porta tanta roba e poi bisogna amarlo il Carnevale. E il getto è la cosa che lo contraddistingue? Io parlo con molta gente. Il getto è l'aspirazione di tantissimi fanesi per entrare nel getto. E quindi ti ritiri Fortunato? Sì, sì, guarda. Era l'aspirazione anche mia. Sì, guarda.